Cosa ci vuole a vendere casa privatamente? Scommetto che anche tu l'hai messa a farmi una volta. Tranquillo, è comprensibile, però forse non sai che i rischi che puoi correre vendendo casa da solo sono nettamente superiori rispetto ai benefici. Lascia che ti spieghi il perché, però prima mi presento. Ciao, sono Sofia, lavoro in Agia Casa, un network immobiliare presente nella Liguria di Ponente da oltre 20 anni, con i primi uffici a Borghetto Nuovo e Ceriale, oggi è più presente sul Finale e Milano nel centro città in posizione strategica. Ma ora torniamo a noi. È possibile vendere casa privatamente senza imbattersi in brutte sorprese? La mia risposta è dipende. Vendere casa, infatti, può presentare diverse insidie durante il percorso. Ecco perché affidarsi a un agente immobiliare professionista come noi può fare la differenza. Vendere casa non è così semplice come si può pensare. Ci sono tre fasi fondamentali e molto delicate nella messa in vita di un immobile. La prima è quella della valutazione. È molto importante, infatti, pubblicizzare l'immobile a un prezzo che legge nella vendita. E solo un agente immobiliare serio e professionale farà delle attente analisi e valutazioni oggettive, così da dare il giusto prezzo a casa tua. La seconda è quella della preselezione degli acquerenti. Questo per evitare una di rivieni inutile in casa tua, con persone non effettivamente interessate o con una capacità di acquisto non sufficiente. La terza, ultima non per importanza, è quella della conoscenza delle normative. La legge italiana cambia di continuo ed è fondamentale affidarsi a professionisti che collaborano anche con professionisti specializzati nel settore, così da poterti tutelare a 360 gradi. Tu saresti in grado di fare tutto questo da solo in totale autonomia? Sono sicura che anche per te la tua sicurezza non abbia prezzo. Vuoi vendere casa nella riviera Ligure di Ponente? Contattaci per avere la tua consulenza personalizzata. A presto. Ciao a tutti. Grazie a tutti.